Ciao, sono Salvatore, il tuo camerettaio di fiducia. Oggi voglio rispondere alla domanda di Simona. Simona mi chiede, ma i materiali delle camerette sono di qualità? Le camerette che tu proponi sono solide, sono resistenti, sono di alta qualità? Simona, assolutamente sì. Le nostre camerette hanno tutte le certificazioni, tutti i materiali hanno le certificazioni di base. Adesso te li faccio... Riccola, me li passi un attimo? Quindi per ogni nostra cameretta potrai richiedere le certificazioni di tutti i materiali che vi vengono impiegati, sia per quanto riguarda la resistenza anche delle camerette. Vieni a vedere. Sono tutte, in tutti i nostri letti sono a forte spessore, adatte a qualsiasi peso, a qualsiasi età. Vedi? Anche una mole grossa come la mia ci può andare anche a stare all'impiede sopra il letto. Le ante. Tutte le nostre ante sono sempre dotate di rallentatori. Quindi a prescindere dalla forza che si utilizzerà per chiuderla, si chiuderanno in maniera dolce e non sbatteranno. Le nostre barre ponte, come il nostro cavallo di battaglia, considera che la sicurezza ne facciamo un vero e proprio cavallo di battaglia. La nostra barra ponte è sempre e sempre comunque una barra di metallo, molte volte ricoperta da un materiale di laminato, ma sempre ancorata in più punti, sia sui pannelli di dietro che sia sui laterali. La qualità e la sicurezza per noi viene al primo punto. Quindi considera che tutti i nostri prodotti saranno sempre e comunque certificati, accompagnati da tutte le certificazioni di sicurezza che ti possono servire. Spero di aver esaudito la tua domanda, risposta bene alla tua domanda. Ciao Salvatore, il tuo camerettaio di fiducia.